E adesso andiamo allo scontro perché le avversarie più pericolose di quel Modena erano il Parma di Arrigo Sacchi e il Piacenza. Lo scontro a Parma contro una grande squadra, diversi giocatori poi sono andati in Serie A e c'è subito il calcio di rigore, il Modena protesta moltissimo, Marco Rossi, altro romagnolo se non ricordo male, tutti romagnoli, Marco Rossi conquista il rigore e poi lo trasforma anche battendo ballotta. Sempre vedete all'inizio delle partite il Modena soffre, spesso è sotto, qui c'è un fallo ai danni di Piacentini, oggi sarebbe espulsione o cartellino giallo ma lì non ci fu nulla, solo la punizione. E qui Marco Rossi raddoppia, 2-0 il Modena quindi nello scontro contro una delle avversarie dirette per la promozione, mentre vediamo adesso una punizione di Domini, cade, cade e purtroppo non è un periodo bellissimo per il Modena, non ha fatto molti punti e chiaramente la vetta si allontana. E qui questo errore di Sauro Frutti è significativo proprio, mentre il Palma cerca addirittura il terzo gol, del momento difficile della squadra giallo-blu che ancora soffre, e qui ancora un pezzo di bravura di Mauro Rabitti.